Pensando meglio Il primo della classe mi chiese Professore, che cos'è la vita? Pensando al futuro risposi Tutto Poi pensando al passato risposi Nulla Infine, pensando meglio, dissi La vita è ognuno di noi Commento Noi non abbiamo un'evoluzione Ma siamo evoluzione Quindi siamo la nostra vita Che è evoluzione